Io ambito 32 anni alla Paleotta e sono 32 anni che queste strade sono abbandonate, metà via della Paleotta. Le hanno abbandonate tutti, giunte di destra e giunte di sinistra. Sono state abbandonate da tutti e voglio capire anche il perché. Non se lo spiega Massimo Bertozzi, residente in via Severini, che ci ha contattati per lanciare un appello al comune di Fano. Ciclista amatoriale, il pensionato percorre tutte le strade della città, ma qui, dice, non si è mai visto nessuno, servono lavori di asfaltatura, almeno in due tratti molto trafficati. È stato asfaltato questo pezzo di strada che sale dal Carmine e sbuca al Belgato, nella strada provinciale che poi porta al Fenile e a Santa Maria della Razzilla. Sono un chilometro e due, un chilometro e tre di strada. Fantastica, è un biliardo ed è un piacere vederla così. Questa strada ho visto, grossomodo, che abitano, ci sono circa dieci ville, dieci abitazioni, cui sette o otto ville di un certo spessore. Onestamente sono anche intestate di proprietà di alcuni nomi noti a Fano. Però questo non vuol dire assolutamente nulla, perché tutti abbiamo il diritto di avere le cose nel miglior modo possibile, tutti abbiamo il diritto di avere l'asfalto nel miglior modo possibile, di godere di tutti i benefici che un comune può dare nel miglior modo possibile. Quello che voglio chiedere è con quale criterio viene decisa l'asfaltatura di queste strade. Infatti, prosegue Massimo, via della Paleotta, la principale del quartiere, attende da decenni una manutenzione. Questa strada conduce anche al circuito Marconi e allo Zengarini e quindi viene percorsa da automobilisti, ciclisti e pedoni ogni giorno. Ogni anno vengono anche migliaia di persone da fuori e lasciare una strada dove comincia a essere pericoloso anche camminare a piedi perché rischi la storta, secondo me non è un bel biglietto da visita per il comune di Fano. Stessa cosa vale, facendo sempre i miei giri in bicicletta, per un tratto di via Frusaglia. Via Frusaglia addirittura ho notato che le macchine oppure le moto, le biciclette non passano nemmeno più sull'asfalto da come è ridotta, ma si sono create una strada addirittura nel campo in mezzo a due querce pur di evitare l'asfalto. Ora io dico, bello asfaltare questo e continuiamo, asfaltiamo tutte le strade in periferia, qua la strada che sale, che porta Rocco Sambaccio, magnifico, però diamo un criterio logico all'asfaltatura di queste strade, cioè asfaltiamo le strade per 10 famiglie, ma asfaltiamo le strade per 100 e decine e migliaia di persone.